Chiudiamo con, sentiremo anche un commento dei nostri occhi, sulle intenzioni di voto che oggi sono particolarmente interessanti. Allora, queste sono quelle normali, diciamo, con le forze politiche che esistono adesso. Il Partito Democratico scende sotto il 20%, secondo Antonio Noto perde un punto e mezzo. Il Movimento 5 Stelle guadagna un punto. Renzi resta stabile al 3,5. L'EU perde un punto e va all'1. Totale 40. La Lega, che già la settimana scorsa aveva frenato la flessione, risalirebbe di un punto al 28. Fratelli d'Italia al 14 stabile. Forza Italia guadagna mezzo punto, 7,5. Toti un punto e mezzo, 51%. Quindi oltre la maggioranza. Ecco, una riflessione. Io poi, con tutto rispetto per tutti i sondaggisti di tutto il mondo, li prendo sempre con le pinze, sia nel bene che nel male. C'è noi. Però, se prendo per buono questo, quindi è tardi, è giovedì, poi ripeto, la gente ha il problema non del sondaggio, ma del prestito in banco o della Cassa Integrazione. Però, io, se devo leggere questi due numeri del dottor Noto, vedo che il centrodestra è maggioranza assoluta. Che la Lega è di gran lunga il primo partito italiano, quindi o sono sciocchi gli italiani, perché stando a qualcuno che sentivo Salvini, va in giro a far servi, vale prologo e non ha proposte, oppure, evidentemente, fortunatamente, c'è tanta gente che ha fiducia. Cioè, io non vedo l'ora di tornare al governo con una squadra più compatta di quella che avevamo l'altra volta per fare tutto quello che non si è riusciti a fare. E ripare questo in momento di fare le elezioni anticipate. Il governo probabilmente settimana prossima fissa per l'autunno le elezioni in sette regioni, in centinaia di comuni e in tutta Italia per il referendum del taglio dei parlamentari. Cioè, probabilmente a fine settembre, può essere il 20 o può essere il 27, decide il governo, tutti gli italiani dovranno uscire di casa per andare a confermare il taglio dei parlamentari, cosa di cui io sono convinto. Ora, se dobbiamo andare avanti per altri mesi, con PD, 5 Stelle, Renzi, Boldrini, Leu, che litigano su tutto, non è meglio che quel giorno in cui tutti gli italiani usciranno di casa, oltre che votare per i comuni, per le regioni, per il referendum, votino anche per avere per cinque anni un Parlamento nuovo, stabile, fresco, che per cinque anni lavori, secondo me ci sarebbe da pensare. La campagna elettorale è dura con questi chiari di luna, come si dice. Per completare, calenda 3%, i verdi 1,5%, più Europa mezzo punto. Ma adesso andiamo a vedere che cosa succede con la lista Conte. Eccola qua. Lista Conte 16%. A chi prende i voti? Partito Democratico scenderebbe al 12%, perde 7,5%, il Movimento 5 Stelle 9%, altri 7 punti di meno. Renzi perde un punto, 2,5%, l'EU 5%. Rimarrebbe allo stesso 40% di prima, soltanto con i due partiti leader, fino adesso, che vengono massacrati. La Lega non gli importa niente, resta al 28%, Fratelli Italia resta al 28%, in Forza Italia c'è qualche friccico, diciamo, di interesse, perde un punto e mezzo e scende al 6%. Totti perde un mezzo punto, dal 51% scende al 49%. Cresce calenda. Dice, avesse, dobbiamo andare a uno nuovo, andiamo pure da calenda, 4%, poi i verdi mezzo punto, insomma così. Allora, da dove vengono? Dai elettori indecisi o che in assenza non voterebbero? 32%, dal PD 25%, dal Movimento 5 Stelle 22%, da altri partiti 21%. Antonio, mi hai fatto bene i conti? Assolutamente sì. È anche vero, bisogna dire, che molto spesso nei sondaggi i partiti che non esistono raccolgono più consenso appunto nei sondaggi che non nell'urna. Questo è un processo, diciamo, naturale, anche perché è più facile identificarsi con un partito che non c'è, che poi con un partito che prende esattamente posizioni politiche. Però è anche vero che vediamo che la lista Conte, per quanto ovviamente può essere un partito di successo, dall'altra parte non porta valore aggiunto alla coalizione dell'area di governo. E 40% senza la presenza della lista Conte rimane anche 40% con la presenza della lista Conte. C'è un minimo spostamento di voti, raccoglie pochissimo, un poco da Forza Italia, toglie circa un punto sostanzialmente al centro-destra, ma la differenza fra centro-destra e area di governo rimarrebbe comunque di 9 punti, quindi in maniera significativa. Toglie, abbiamo visto, molti voti al PD, al Movimento 5 Stelle, d'altronde è anche un processo naturale. Se Conte è il leader, è il presidente del Consiglio, del governo PD e 5 Stelle, mi sembra normale che una parte di elettori del PD e una parte degli elettori del Movimento 5 Stelle possano gradire addirittura Conte come leader. Sarebbe stato anomalo se Conte invece avesse sfondato molto del centro-destra, invece il centro-destra cede poco all'eventuale partito del Presidente. Maurizio. Io credo che il partito di Conte e il rafforzamento in qualche maniera del Premier si debba alla gestione dell'emergenza Covid. La fase dell'emergenza sanitaria sicuramente ha garantito la sicurezza ai cittadini, i cittadini hanno fatto quadrato attorno al governo e allo Stato. È stato un momento di grande difficoltà, abbiamo avuto 33.000 morti e quando si esce da una guerra, obiettivamente c'è un riconoscimento per come il Paese è stato guidato. La debolezza di Conte adesso invece è sul fronte della ripresa dell'economia e sul fatto che non ha tempo a disposizione. Il fattore tempo gioca contro il governo perché servono una ricetta per rilanciare l'economia nelle prossime settimane, al massimo entro due o tre mesi. Non è che possiamo aspettare settembre-ottobre. E io credo che questo sia l'interrogativo maggiore da un punto di vista politico anche per il senatore Salvini e per il centrodestra. Guardare alle elezioni a un periodo medio o lungo non ha molto senso. Serve invece la capacità di agire in maniera concreta per dare sicurezza sul piano economico ai cittadini nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Da qui la necessità di agire assieme a loro. Come diceva Noto il partito di Conte è semplicemente la sintesi dei partiti della maggioranza. Abbiamo visto Conte in diretta televisiva praticamente permanente in questi mesi di emergenza. Ha avuto i toni giusti, poi ha fatto molte scelte discutibili ma dal punto di vista dell'immagine è riuscito molto a rassicurare che comprensibilmente gli italiani lo conoscono più di prima e gli danno un po' più di fiducia. Ma non è un progetto politico. 5 Stelle non hanno un capo in questo momento, sono allo sbando da mesi. Il partito democratico nel momento in cui guadagnava più voti era mentre Zingaretti era fuori gioco per il Covid. Quasi a significare che gli elettori premiano più l'idea del partito democratico che il partito democratico in azione. Un po' come diceva Noto che i partiti che non esistono prendono più voti. Quindi è una fotografia di una scena di movimento ma molto lontana da trovare un nuovo passetto. Anch'io non credo che sia settembre il momento per le elezioni ma questo lo decide il Presidente della Repubblica quando le nostre opinioni contano fino a un certo punto.